ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella al cioccolato con polvere di stelle il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa ingredienti sono biscotti van di stelle burro zucchero uova farina di tipo doppio zero cacao amaro lievito in polvere cioccolato fondente fuso latte intero vanillina sale e stelle di zucchero diamo il via alla ricetta per questa ricetta utilizzeremo uno stampo in silicone del diametro di 24 centimetri che abbiamo imburrato e spolverizzato con il cacao iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro deve essere morbido e lo zucchero e azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 5 riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo le uova e le facciamo montare per tre minuti a velocità 5 aggiungiamo il cioccolato fondente fuso che non deve essere caldo e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 aggiungiamo la vanillina il pizzico di sale il cacao amaro il lievito per dolci la farina e per ultimo il latte e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 il composto è pronto prima di versarlo nello stampo prendiamo lo stampo e sbricioliamo sul fondo i biscotti van di stelle dopo aver sbriciolato i biscotti trasferiamo il composto all'interno dello stampo adesso cuociamo in forno preriscaldato a 160 gradi per 50 minuti circa facendo la prova a stecchino per verificare la cottura la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo e decorarla con le stelline di zucchero ciambella al cioccolato con polvere di stelle grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti